Intanto complimenti a Orti Nuovi che ha giocato una partita veramente importante a livello agonistico, erano senza bossi, quindi senza un giocatore importantissimo. Non avevamo una grande opportunità, quella di prendere due punti, venire qui a giocare con loro senza il loro migliore italiano. Purtroppo è un periodo per noi difficile, c'era molto nervosismo, forse troppo, e abbiamo giocato contro una squadra che ha messo tutto quello che aveva sul campo giocando con un'energia veramente importante. Questo per noi è un momento difficile, anche se questa sera ci sono stati errori sicuramente, ma abbiamo buttato sul campo tanto a livello di energia. Poi la partita è stata costellata da tanti errori, tante ingenuità, sia in attacco che in difesa, che sono costate la partita. Per esempio anche la cattiva gestione dell'ultimo minuto del secondo quarto, dove avevamo un vantaggio importante, abbiamo preso un parziale. Complimenti a Orti Nuovi, dobbiamo sapere accettare questo momento, tenere tutta la rabbia dentro, stare uniti, lavorare e uscire da questo momento, che è un momento sicuramente complicato, perché abbiamo lasciato sul campo dei punti importanti sia questa sera che nelle ultime occasioni interne.